Oltre mille persone ieri sera al Teatro Augusteo hanno preso parte all'apertura della sedicesima edizione di Arte Cinema, festival internazionale di film sull'arte contemporanea. La rassegna è stata inaugurata da Rebecca Horn, l'artista tedesca che nel 2002 riempì il suolo di piazza plebiscito Conteschi di Ghisa, che ha presentato il suo film Moon Mirror Journey, un autoritratto sugli ultimi 25 anni della propria produzione artistica. Fino a domenica 16 saranno proiettati film e documentari su alcuni grandi protagonisti dell'arte vivente, da Nam June Paik, pioniere della videoarte, ad Anish Kapoor, da Oliviero Toscani a Jean-Michel Basquiat. E sempre ieri sera al Castel Santelmo si è aperta la tredicesima edizione del Napoli Film Festival, che proseguirà fino a martedì 18. Spicca fra le proposte una retrospettiva su Andrei Tarkovsky, con nove opere, tra cui sacrificio, l'ultimo film del maestro sovietico praticamente inedito in Italia.